Sappiamo di tante famiglie intere, chiuse a casa da più di 20 giorni, non sanno ancora loro, neanche sono positivi, però devono rimanere chiusi a casa e nessuno che va ad accoglierli. Poi da malattie oncologici, perché è lì che parte il nostro dolore, ci avevano promesso non più di un mese fa che non ci avrebbero mai trasferito, e invece il trasferimento è arrivato, purtroppo molti ce lo immaginevamo, perché effettivamente le parole di certi livelli della politica evidentemente non sono affidabili. Però non voglio fare un attacco diretto adesso a una parte di politica, a me quello che mi interessa è tornare lì dove eravamo. Lei non è solo, ha capito? Non è solo! Di nuovo un po' di pazzo a metto, fate il piacere. Ogni 10 giorni faccio terapia e grazie a Dio, sento che stia andando bene, grazie alla bravura dei medici, e a quella splendida famiglia di inferniere, che sono veramente come sorelle, perché per me, essendo un'orese, avere un'eccellenza in mezzo a tutte le porcherie che abbiamo a Nuoro, è anche una bella soddisfazione, perché ci possiamo vantare di avere un reparto veramente eccellente, non c'è bisogno di andare né a manca né a destra, perché qui ne hanno da dare, perché sono bravi, umanamente, sono preparati a livello del mestiere. Eccellenza, secondo me, oltre all'eccellenza, noi ce l'abbiamo. Siamo sardi, che siamo italiani, non è giusto che ci fatti così, non è giusto, non è giusto, non è giusto. E il signor, l'assessore della sanità, il presidente Solina, che parla, 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 ma poi in concreto cosa fa? Cosa mi ha detto? E' mai venuto il prof. di Cagliere a parlare con noi, a sentire i nostri problemi, i problemi che ha legato benissimo il signore. Io da cinque anni li fico, non lo capisco, per fortuna sono scapolo solo, perciò i miei fratelli che mi portano, fanno la staffetta, portarmi dal paese, torno a loro per portarmi qua, che li potevo guidare per due anni e mezza. E adesso sono fortunato, nella fortuna sono fortunato. Una signora, due settimane fa, veniva da Alghero, tre bambini piccoli, solo il marito che lavorava, la latte oncologica è dovuta venire a loro, la nostra eccellenza, per curarsi. Ecco, allora bisogna soddisfare la nostra eccellenza. Non va bene il signore, non va bene. Tutti, dico tutti, hanno, devono avere un'assistenza sanitaria perché è un diritto, da qui non scappa nessuno. Io porto la solidarietà e ringrazio gli organizzatori di questa manifestazione perché davvero ne avete bisogno e noi siamo e saremo sempre al vostro fianco. Io intanto mi sento di ringraziare lei che pur non stando bene ogni volta ci mette l'anima per fare l'organizzazione, grazie. È una persona che in conto tempo riesce comunque a portare gli obiettivi a...